Siamo sull'autostrada in direzione di Maesot, è mezzogiorno, dottoressa ha qualcosa da dire dopo questi 100 km fatti su e zo, avanti e rio, a sconvolgimento di stomaco, però l'ananasso ci ha messo un po' a posto, leggermente a posto. Bene, giriamo l'obiettivo. Le discese ardite, le risalite, ancora in alto, con un grande salto. Ah, ecco la nostra macchina da guerra al volante. Cinzia che sta guidando ininterrottamente da sette giorni, sette notte. La lady di ferro, la nostra lady di ferro, eccola lì, impassibile. Il nostro reggbista, all'anguorino, che ha sempre fame, il boccio. È giovane, è giovane. Non si fa a avere fame a viettani. Su, su. Giorano i piatti. Ecco quello che si vede davanti a noi. La highway. La highway. Quanto manca Cinzia Maesot? 15-20 km. 15-20 km, quindi ci siamo. Ci siamo, finalmente, arriviamo in albergo. Neanche, forse anche di meno. Tac, albergo, tac. Camera con doccia, tac. Massaggio. Massaggio thailandese, tac. Non dirlo. Massaggio thailandese, tac. Con tè finale, tac. Camera con aria condizionata, tac. E poi, cosa fai qua? Bollo fritto, tac. Hopla!